È record di residenti a Milano. Secondo i registri dell'anagrafe di Via Larga, infatti, il numero delle persone che abitano in città è di 1.404.239 persone, mai così tanti negli ultimi 30 anni. Un numero cresciuto nel solo 2019 di ben oltre 40.000 nuovi milanesi. Nel 2018, infatti, i residenti erano circa 1.395.000, nel 2017 1.380.000. E dei nuovi 40.000 milanesi, a cui si aggiungono altri 10.000 che hanno fatto richiesta, ma che ancora devono essere iscritti ufficialmente nel registro, la maggior parte arriva da tutta Italia. L'esodo maggiore, però, è da Roma, con 1.898 persone nel solo 2019 e da Monza, con 1.465 persone. Poi ci sono quelli che sono arrivati da Napoli, in circa 1.400, e da Pavia e Varese, in poco meno di 1.000. Agli ultimi posti, invece, le due province sarte di Carbonia e Iglesias e Ogliastra, da cui nel 2019 sono arrivate solo due persone. A far muovere gli italiani verso Milano sono senza dubbio le opportunità che la città offre, soprattutto a livello educativo. Per la maggior parte dei giovani di tutta Italia, infatti, la scelta su dove proseguire gli studi universitari si divide per lo più tra l'andare all'estero oppure muoversi a Milano, ormai polo accademico universitario rinomato a livello internazionale. Ad arrivare a Milano non sono solo i connazionali, infatti, tra il 1.400.000 residenti che conta la città, 281.488 sono stranieri, di cui oltre 12.000 arrivati solo nel 2019. La comunità straniera in città più numerosa è quella filippina, con più di 35.000 individui, seguita da quella egiziana, con poco meno di 35.000 persone. Ma mentre la città cresce, le culle diventano sempre più vuote. Secondo i dati di Via Larga, infatti, nel 2019 si è toccato il record in negativo del numero dei bambini nati in città, con solo 9.671 neonati, il numero più basso da 100 anni, con una differenza evidente rispetto al 2018, in cui i nati avevano raggiunto i 10.831 bambini. Un fenomeno che conferma il trend negativo degli ultimi anni, causato da politiche governative che non sostengono a sufficienza le donne che lavorano e che vogliono avere figli e da un costo della vita che a Milano è tra i più alti d'Italia.